Ciao e benvenuto o benvenuta alla presentazione di questo corso in cui imparerai a realizzare un'applicazione da zero e a pubblicarla sul Play Store di Google. Creeremo il file in pochi minuti con un programma online gratuito in cui non dovremo fare altro se non riempire alcuni campi come facciamo quando compriamo una t-shirt su internet e indichiamo la taglia, il colore e il nostro indirizzo per la consegna. Lo stesso dicasi per le schede informative sul Play Store di Google. Si tratterà di un'applicazione semplice che potrà essere basata su una pagina del nostro sito internet, su una pagina Facebook o sul Facebook Shop o ancora su una scheda di Google My Business con l'obiettivo di distribuirla alla clientela esistente e fidelizzarla. Ma potremmo utilizzarla anche per qualsiasi altro argomento di cui si occupano i nostri social anche al di fuori del mondo del business. Dopo aver precisato che potrai scaricare queste diapositive navigabili insieme al file del software gestionale sui clienti e i fornitori dalle risorse del corso, diciamo che questo strumento composito per il marketing si basa su un'applicazione smartphone di cui innanzitutto andremo a creare il file su questo programma online gratuito e successivamente andremo a pubblicarlo insieme a tutte le informazioni richieste sul Play Store di Google. Prima aprendo un account sviluppatore e successivamente andando a compilare tutte le schede dello store di Google fino a poi occuparci della creazione della release e mettere l'applicazione in produzione. Quando il cliente o il potenziale cliente aprirà l'applicazione dal suo smartphone si troverà sul nostro sito internet, sul nostro Facebook shop o ad esempio sulla nostra scheda Google My Business e quindi sarà importante fargli trovare delle belle presentazioni dei nostri prodotti e dei nostri servizi. A questo scopo vedremo come creare da zero un video seguendo tutti i passaggi per la sua realizzazione e lo stesso faremo per creare un catalogo prodotti con PowerPoint trasformandolo poi in file PDF per renderlo scaricabile da quegli ambienti. Se avessimo poi la necessità di dover gestire una rete di vendita potremmo farlo con Office 365 che permette di gestire gli utenti e i gruppi e con un potentissimo strumento pensato proprio per queste situazioni che è Microsoft Teams. Abbiamo poi a disposizione questo software realizzato con Microsoft Access che gestisce i clienti e i fornitori. Ora per economia temporale vado ad aprire soltanto l'anagrafica dei fornitori ma come puoi vedere gestisce anche i clienti, le fatture, il magazzino e anche l'aspetto degli ordini e dei preventivi. Un corso dunque in cui imparerai ad utilizzare una serie di potenti strumenti per il marketing aziendale che fanno capo ad un'applicazione che il cliente o il potenziale cliente avrà installata sul suo smartphone. Ti aspetto al corso. Ciao!